Il consigliere comunale di minoranza, Salvatore Colagiovanni, ha presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale a Campobasso con cui chiede spiegazioni su quanto è successo all'interno degli uffici della Polizia Municipale. Dato che, essendo stato già assessore, so che ci sono alcuni equilibri, ho inteso oggi di presentare un'interrogazione al Consiglio e al Sindaco per sapere quali sono le problematiche che oggi vedono il comando al centro delle polemiche. E soprattutto come si intende agire se quello che viene riferito da alcuni organi di comunicazione è vero, perché di solito bisognerebbe creare un corpo e non sfaldarlo. Essere comandante di un corpo è difficile, ma appunto perché se è comandante bisogna tenere gli equilibri e anche avere un dibattito, a mio avviso, bisogna avere col sorriso e facendo passare una linea di condivisione oltre che di indicazione. Tutto ciò mi sembra che il comando non sia avvenuto, ecco perché chiedo al Sindaco e poi con il gruppo faremo una mozione per poter aprire un dibattito, perché non è la prima volta che il comando di Vigi sta al centro delle polemiche. Durante più di qualche mese fa addirittura ci fu uno scontro tra Polizia Locale, Comandante e Commercianti. Anche quello, diciamo, ci fa capire che c'è un qualcosa che non torna. Per la cronaca ricordiamo che fin dal suo insediamento la posizione del comandante greco è stata oggetto di attenzione. Infatti a pochi giorni dal suo insediamento venne fuori la notizia che Greco era stato inviato a giudizio per stalking e abuso d'ufficio durante il suo precedente mandato in Calabria nel comune di Corigliano Calabro. Il colonnello greco, al termine del processo nei suoi confronti, è stato però assolto perché il fatto non sussiste.